confermata per monte labate valle foglia la zona arancione rinforzata zona gialla e riaperture i ristoranti accolgono i clienti anche per cena furti e rapine cna presenta un progetto di video sorveglianza rotary dona tablet agli istituti professionali buona serata benvenuti al nostro telegiornale oggi è martedì 27 aprile in apertura parliamo delle misure restrittive confermate per due comuni della provincia pesarese stiamo parlando di monte labate valle foglia che a partire da domani a differenza del resto della regione marche saranno in zona arancione scuro una decisione sulla quale è anche intervenuta la sindaca di monte labate cinzia ferri che sentiamo in questo primo servizio di daniele romagna sono state confermate per tre comuni della regione le restrizioni appartenenti alla zona arancione rafforzata due dei tre centri abitati che dovranno ancora attendere per l'allentamento delle misure in vigore da ieri nel resto delle marche fanno parte della provincia di pesare urbino monte labate valle foglia insieme al comune anconetano di cerretodesi sono infatti i territori interessati dall'ordinanza firmata dal governatore francesco acquaroli che sarà in vigore dal 28 aprile fino al prossimo 4 maggio per i due territori della provincia pesarese varranno dunque le misure della fascia arancione e all'interno del comune gli spostamenti per i quali sarà richiesta l'autocertificazione saranno consentiti soltanto per motivi di salute studio lavoro e comprovate necessità sulla decisione intrapresa dalla regione è intervenuto il sindaco di monte labate cinzia ferri mi piacerebbe capire dove prendono questi dati e se è possibile averli anche noi come comune di monte labate visto che non riusciamo ad ottenerli e soprattutto noi abbiamo dei dati che non sono quelli che utilizza la regione e già come dicevo l'altra volta questa cosa non va assolutamente bene loro dicono che il nostro tasso è elevato io so che esistono e ci abbiamo delle persone in quarantena perché comunque hanno contratto il virus ma sono nuclei familiari e quindi secondo il mio punto di vista questa è una cosa da tenere in considerazione è chiaro che una decisione del genere io penso che la regione non ha proprio capito che cosa scatenerà o cosa ha già scatenato perché le persone sono stanche io da ieri pomeriggio da quando ho fatto il post per far portare a conoscenze i cittadini ho ricevuto insulti anche minacce quindi stamattina abbiamo trovato scritto davanti alla porta del comune parole che è meglio che non ripeto quindi la situazione è esasperata mi viene un po da sorridere perché mi chiedo come sia possibile che sulla regione Marche che è composta da 247 comuni tre comuni che tutti insieme forse arriviamo a 35 mila abitanti possano compromettere il dato famoso rt o come si chiama per non avere la regione in giallo non ci credo quindi qualcuno mi deve spiegare le cose i primi a essere avvisati sono stati loro sia i ristoratori che i baristi perché purtroppo anche per questa altra settimana devono stringere i denti e cercare di andare avanti con questo pseudo asporto che non so fino a che punto può essere soddisfacente ed ora il consueto appuntamento con i dati da coronavirus nel nostro territorio infatti il servizio sanità della regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3924 tamponi 2089 nel percorso nuove diagnosi 1835 nel percorso guariti i positivi nel percorso nuove diagnosi sono 223 65 i casi registrati in provincia di pesaro urbino 4 invece i decessi notificati nella serata di ieri nessuna vittima era residente nella provincia pesarese aperture e polemiche ha raccolto infatti davvero tante visualizzazioni il video sfogo caricato su facebook dal ristoratore rosario catone dopo aver ricevuto a poche ore dall'apertura un controllo dei vigili a causa di alcune segnalazioni effettuate probabilmente dai residenti della zona il motivo l'allestimento esterno del locale è corso sui social attraverso un video cliccato e visualizzato centinaia di volte lo sfogo del ristoratore pesarese rosario catone che ieri nella prima giornata di ripresa soltanto all'aperto per i ristoranti ha ricevuto un controllo della polizia presso la propria attività in seguito a delle telefonate ricevute dai vigili per segnalare l'allestimento esterno del locale telefonate secondo il ristoratore effettuate dai condomini della zona per lamentare il passaggio troppo ristretto sotto il porticato di piazzale europa in baia flaminia a causa della presenza di sedie tavolini appartenenti al locale come avete visto un po col video di ieri non pensavo che aveva comunque tanto scalpore e alla fine avessero contento comunque comunque detto solo verità e niente è successo che come vedete questo locale ho fatto dei paramenti e niente quindi altamente i condomini si sono lamentati e che loro dicono che non c'è il passaggio però ti ripeto passaggio come vedi c'è ok perché ho fatto un giochino che posso smontare e la sera quando c'è tanto vento ricoprire perché senza di questi come dicevo chi viene a mangiare ma maggio piove fa freddo quindi ci sono tutte queste cose tutte queste incognite comunque anche per per organizzare il nostro lavoro è difficile mettere in preventivo e adesso in questo momento fortuna come vedete ci sono anche qualche persona che si è fermata anche a mangiare perché forse c'è il paravento che se non c'è neanche questo in questo momento investire quasi seminaero posso garantire che non era proprio il momento giusto c'è una domanda c'è un permesso una domanda che faccio poi ogni anno il solo pubblico basta che dice quello che dice la legge sedie tavolini io rispetto a tanti altri comunque ho una grande piazza il passaggio qui da me c'è infatti io non ho il problema di fatti le autorizzazioni me l'hanno rilassata perché da me qui il discorso del passaggio non esiste a cattiveria questi condomini o chi ha chiamato adesso che mi fa aprire di che tutto vedere subito comunque che vengono dei controlli veramente ieri mi ha fatto vomitare le forze dell'ordine assolutamente non ce l'ho poi ti ripeto che è venuto proprio anche ieri le due persone che sono venuti si sono comportati no benissimo super professionali perché anzi ridevamo guarda ridevamo perché anche loro solamente fanno il loro lavoro hanno avuto una chiamata devono intervenire sono venuti si sono messi a ridevamo anche loro sanno il buon senso capiscono le difficoltà che abbiamo avuto che avremmo e chi lo sa ancora fino a quanto ci riprenderemo deboli le prime due giornate di riapertura ha affermato il ristoratore probabilmente anche a causa del maltempo adesso per il primo di maggio si sta muovendo per il primo di maggio comunque un po' di prenotati già si stanno muovendo c'è qualcosa un po' sempre da sport ma ti ripeto l'asporto è stata una sopravvivenza proprio assolutamente lo sfogo di ieri di questo video è stato soprattutto perché veramente veramente ragazzi noi non sapete cosa cosa abbiamo passato anche otto mesi momenti di difficoltà queste cattiverie gratuiti non esistono dai e nel servizio di ieri sera del nostro telegiornale vi abbiamo mostrato le prime mattinate di riapertura per quanto riguarda bar e ristoranti nella città di Pesaro dopo mesi di chiusura però con il ritorno della zona gialla i locali hanno potuto accogliere i clienti sempre esclusivamente all'aperto anche per la cena noi siamo stati in qualche attività per vedere come sono andati questi primi servizi serali coprifuoco e servizio all'aperto non hanno fermato le riaperture serali dei locali e dei ristoranti della città che dopo diversi mesi di stop a causa delle restrizioni anti-covid ieri hanno potuto riaccogliere anche per cena i propri clienti tendenzialmente è anche presto dire andata bene andata male nel senso che il ritmo di lavoro è sempre quello comunque degli asporti adesso è il primo giorno quindi la gente si deve anche abituare speriamo innanzitutto che cambino un po' le normative sul lavoro cioè non lavorare solo all'esterno si stanno muovendo un po' di prenotazioni per il weekend, per le sere ma anche il fatto di avere il coprifuoco alle 22 non aiuta perché comunque tra chi stacca da lavorare a una determinata ora viene al locale, deve mangiare velocemente non si gode più l'atmosfera e la cena, il piacere di cenare speriamo appunto che almeno il fatto del coprifuoco almeno venga allungato in maniera tale da poter fare almeno una cena tranquilla far passare una bella serata ai nostri clienti noi per tipologia di locale siamo aperti solo la sera perciò noi diciamo che in tempi di pre-covid eravamo aperti facevamo l'orario 18, l'una, due di notte adesso abbiamo dovuto un attimo rivedere un pochino il tutto a pranzo non lavoriamo e lavoriamo praticamente dalle 4, dalle 16 fino alle 22 oggi è il primo giorno, è un test dovevamo anche vedere un pochino come reagiva quella risposta della clientela però possiamo dire che siamo stati soddisfatti come prima giornata di prova già domani c'è molti più prenotati quindi clientela che è arrivata qui con prenotazione già da qualche giorno visto che sapeva di una riapertura sì, hanno prenotato perché ovviamente abbiamo fatto una campagna con i social per comunicare l'apertura e tutte le tipologie di offerta che davamo abbiamo appena iniziato ma comunque è logico che facendo solo fuori io ho pochissimi posti perciò sono molto penalizzato però intanto iniziamo in qualche modo cerchiamo di iniziare ancora l'attività piano piano e di riprendere a pranzo qualcosina abbiamo fatto ma già questa sera la gente ce n'è pochissima solo all'esterno e ancora poi il tempo non è nemmeno tanto è intulgente perciò è stato veramente cioè era meglio non aprire o aprire un pochino più tardi ma intanto vogliamo iniziare siamo contenti così insomma è stata una bella serata perché non vedevamo l'ora per poter andare a cena fuori e appena abbiamo saputo che si poteva ritornare senza essere in uno spazio chiuso abbiamo colto l'occasione di essere subito venuti a mangiare un po' di pesce da Oldergo che conosciamo bene insomma una bella serata che sa un po' di ritorno alla normalità piano piano speriamo speriamo di sì che speriamo che ritorni tutto come prima e si possa tornare a essere più liberi e a mangiare anche senza mascherine come prima insomma e senza guardare l'orologio esatto esatto assolutamente speriamo di sì è stato presentato questa mattina il progetto promosso da CNA Milleocchi sulla provincia di Pesaro Urbino il quale prevede un unico sistema di videoallarme antirapina collegato direttamente con le sale operative delle forze dell'ordine le imprese associate potranno quindi usufruire di speciali condizioni per il sistema di videosorveglianza che permetterà di monitorare i circuiti installati nell'azienda ma anche di intervenire tempestivamente in caso di intrusione furto o rapina vediamo un progetto che mi rende molto orgoglioso Milleocchi sulla provincia di Pesaro Urbino perché riusciamo a garantire la sicurezza degli imprenditori sia per quello che riguarda l'antirapina per quello che riguarda l'antirapina per quello che riguarda l'intrusione H24 ma anche con un dispositivo di sicurezza proprio per gli imprenditori stessi e i propri dipendenti quindi davvero una grandissima soddisfazione d'altro canto riusciamo anche a garantire attraverso le telecamere che sono già installate e quelle che verranno installate in futuro una maggior sicurezza per tutta la comunità del territorio di Pesaro Urbino quindi davvero un grande progetto fatto in collaborazione con due aziende di caratura nazionale SB Company e Secure Shop by GECOM che ci permettono con la loro esperienza visto che hanno installato questo dispositivo già dentro ovviamente le sale operative dell'arma dei carabinieri e della Polizia di Stato in oltre 200 posti quindi questo ci garantisce la grande qualità e serietà di questo progetto che oggi in questa partnership con grande orgoglio ripeto presentiamo sono diverse centinaia le aziende che già stanno aderendo a questo nostro progetto ovviamente oggi lo presentiamo in maniera ufficiale quindi da oggi stesso partirà una campagna informativa molto specifica che speriamo abbia il risultato che merita perché questa è anche una grande e importante iniziativa che la CNA di Pesaro Urbino mette a favore della collettività perché la sicurezza in un momento economico così delicato è molto importante viviamo in una provincia relativamente tranquilla questo è un progetto che deve assolutamente servire perché la provincia rimanga tale e quindi noi con grande orgoglio oggi siamo qui in questo grande lavoro che come sempre vede la CNA di Pesaro Urbino in prima fila ringrazio innanzitutto CNA che ci ha dato questa opportunità di sbarcare anche su Pesaro dove già siamo presenti con una piattaforma installata presso la sala operativa della Questura stiamo verificando adesso le pratiche anche per poterla estendere anche ai carabinieri come avviene un po' in tutta Italia noi abbiamo 204 piattaforme installate su sale operative di carabinieri e polizia rendiamo appunto questa possibilità di gestire il servizio di non solo teleallarme teleallarme sì antirapina ma anche gestione del servizio notturno dando la possibilità per quanto riguarda l'evento diurno di rapina di mandare direttamente le immagini alle sale operative delle forze dell'ordine che gestiscono moto proprio l'intervento e questo gli dà un grosso vantaggio perché è il vantaggio di poter comunque vedere in diretta la gestione dell'intervento quindi di che tipo di intervento devono fare per quanto riguarda il notturno invece c'è una sala operativa perché il TULPS stabilisce questo che filtra l'eventuale intrusione notturna e nel caso che l'intrusione sia reale viene poi trasferita alle sale operative di competenza da Pesaro andiamo ad Urbino perché sempre questa mattina è stato presentato nella cornice del bellissimo municipio di Urbino il distretto biologico delle terre marchigiane un progetto a cui hanno aderito 115 aziende biologiche e 26 amministrazioni comunali vediamo i dettagli in queste prossime interviste ai protagonisti che sono state realizzate da Andrea Sabatini Terremarchigiane, questa associazione che è nata nel 2020 in ossequio ad una legge regionale ad una delibera della giunta regionale che poi è stata modificata peraltro quest'anno ma la Confcommercio ha aderito perché riteniamo che il distretto del biologico sia una grande opportunità dal punto di vista economico e turistico per tutto il territorio crediamo che un'associazione che si occupi di biologico non debba coinvolgere solamente gli operatori agricoli gli operatori che fanno del biologico una condizione di vita, di esistenza ma deve coinvolgere tutti gli operatori della filiera a cominciare dagli operatori del turismo e della ristorazione in fondo se un produttore agricolo utilizza metodi non chimici, metodi biologici per i propri prodotti ebbene questi prodotti si trovino nel mondo della ristorazione ed è altrettanto vero che la promozione di un distretto che è sostenibile valorizza anche il turismo nell'area che sono coinvolte Presentiamo finalmente, ufficialmente il distretto biologico Tere Marchigiane che ha proprio un suo logo qui abbiamo presente l'artista, una studentessa del liceo artistico di Fermo siamo qui anche per chiedere all'amministrazione regionale di poterci fare aderire al distretto unico regionale biologico come distretto senza dividerci, senza separarci perché per noi è importante rimanere uniti visto che siamo già pronti e operativi per dare il nostro contributo al territorio marchigiano Insieme a tanti altri sindaci abbiamo aderito a questo consorzio del distretto del biologico della nostra provincia perché chiaramente insieme a quello regionale che è voluta dall'amministrazione è un distretto unico però la peculiarità di questo territorio ha una storia ben precisa ha una storia di produzione agricola ma ha una storia anche di trasformazione dei prodotti alimentari biologici un territorio uniforme dove c'è una riconoscibilità anche a livello internazionale già consolidato della provenienza del prodotto di questo territorio quindi noi vogliamo questo valore accrescerlo quindi è l'obiettivo delle amministrazioni che hanno aderito a questo distretto Rachele come è nata un po' l'idea di creare questo logo da dove è partita, come ti è venuto in mente, raccontaci un po' ho scelto il picchio marchigiano dove poi ho inserito una foglia che è simbolo del biologico appunto ed è anche un cuore rovesciato che è il cuore delle marche sono felicissima di essere stata scelta per il logo è una grandissima soddisfazione infatti ringrazio tutto il distretto biologico la mia preside e la mia professoressa perché è una grande soddisfazione appunto La città di Pesaro accoglierà un nuovo teatro un piccolo in cui accogliere concerti, spettacoli di danza conferenze, residenze artistiche, eventi e momenti di rappresentanza è stato infatti approvato oggi in giunta comunale il progetto esecutivo del primo dei tre stralci della ristrutturazione della Sala della Repubblica all'interno del Teatro Rossini 716 mila euro la cifra totale dei finanziamenti ottenuti dall'amministrazione proprio per l'intervento che prenderà il via al termine dell'edizione 2021 del ROF Lo street food al porto è una delle iniziative del comune di Pesaro per valorizzare l'area portuale e incentivare la frequentazione di cittadini e turisti questa mattina la giunta ha approvato la pubblicazione di un avviso pubblico per l'assegnazione stagionale ad esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande lungo la calata Caio Duilio il bando verrà pubblicato nei prossimi giorni sull'albo pretorio del comune di Pesaro per fare domanda ci sarà tempo fino al 20 maggio 2021 domani in occasione della giornata mondiale in memoria delle vittime dell'amianto il comitato ONA, osservatorio nazionale amianto di Pesaro alle 16 si riunirà al parco Trulla dove oltre a condividere delle testimonianze posizionerà una pianta sempre nella stessa giornata ma alle ore 21 ci sarà un incontro online trasmesso sulla pagina Facebook e sul canale YouTube Osimo Web a cui presenzierà anche il presidente del Consiglio regionale delle Marche Dino Lattini il comitato provinciale UMPLI Unione Nazionale Proloco d'Italia ha deciso di investire sulla formazione delle proloco associate organizzando tre webinar gratuiti per comprendere come gestire al meglio le pagine social dopo il successo del primo che ha visto oltre 80 partecipanti appartenenti a 30 proloco il 29 aprile e il 6 maggio si terranno gli altri due appuntamenti le proloco associate UMPLI che desiderano iscriversi ai webinar possono inviare una email a infochiocciola prolocopesarurbino.it ed ora ci spostiamo a Fano Fano città delle bambine dei bambini compie 30 anni un traguardo importante per il progetto culturale fanese che mette i più piccoli al primo posto e che verrà celebrato attraverso una serie di eventi che dureranno fino a maggio 2022 compie 30 anni e di certo pure lui non è più un fanciullo è un progetto culturale nato per mettere al centro i più piccoli ma anche per individuare e per dare forza a un nuovo paradigma di sviluppo cittadino si chiama Fano città delle bambine e dei bambini un'iniziativa ambiziosa che negli anni ha contribuito a portare la città della fortuna alla rivalta nazionale tra i principali risultati raggiunti vi sono il quartiere a misura di bambino il consiglio dei bambini l'iniziativa a scuola da soli città da giocare e tanto altro ancora le 30 candeline che si accinge a spegnere ne fanno un progetto maturo un punto fermo per il territorio tutto da festeggiare tanti gli eventi all'interno di un programma ancora in divenire che si estenderà fino a maggio del prossimo anno si comincia giovedì 29 aprile con la presentazione online di due libri di Francesco Tonucci il trentennale 30 anni di città dei bambini stiamo proponendo alla città un programma molto vasto che dura da maggio 2021 a maggio 2022 praticamente diviso in due parti, due blocchi uno più istituzionale di incontri con le istituzioni con i soggetti che hanno partecipato e hanno sostenuto questo percorso quindi CNR, Tonucci, Lunicef ma anche altri soggetti istituzionali molto alti e l'altro invece che coinvolge direttamente la città e soprattutto i bambini che hanno lavorato in questi trent'anni con noi partiamo giovedì prossimo con Tonucci online ecco anche questa è una caratteristica i primi saranno online poi pian piano speriamo di poter tornare all'aperto e quindi quest'estate ci saranno una serie di iniziative in collaborazione anche con la Memo con passaggi e con altri soggetti rivolti proprio ai bambini dove i bambini potranno tornare negli spazi pubblici della città a settembre ci sarà un evento istituzionale molto ampio e vasto e poi via via vi presenteremo gli altri eventi per finire a maggio 2022 con finalmente di nuovo la città da giocare che speriamo sia molto partecipata visto tutta questa attesa dei bambini le celebrazioni per il trentennale sono anche l'occasione per ripensarsi e per dare nuovo slancio all'intero progetto a partire da una visione di città che diventi davvero a misura di bambino e quindi sostenibile ma soprattutto vivibile è un bel momento non solo per mettere a valore una storia importante ricca che comunque fa parte pienamente ormai dell'identità della città di Fano ma è anche un momento di riflessione per immaginare i prossimi trent'anni di questa città le coordinate del suo sviluppo urbanistico, sociale, economico culturale ed educativo e provare a immaginarlo con l'occhio dei bambini credo che sia una scelta non scontata e al tempo stesso però doverosa facendo tesoro dei risultati, dei successi che in questi anni sono stati portati a casa ma anche delle criticità che nel cambiamento di questa città anche tumultuoso in alcuni tratti di vita di questi ultimi trent'anni c'è stato ci deve portare anche a riflettere su cosa aggiornare di questo progetto e di come rilanciarne il ruolo non solo rispetto al mondo delle bambine e dei bambini ma rispetto all'intera comunità Questa mattina presso l'Istituto Alberghiero Santa Marta di Pesaro i vari club del Rotary di Pesaro ma anche il Rotary International hanno celebrato la donazione di alcuni tablet che hanno fatto agli istituti professionali del nostro territorio noi c'eravamo, vediamo il servizio Questo è un progetto che nasce da una partnership tra l'USAID che è la principale agenzia di sviluppo del governo degli Stati Uniti e di Rotary International L'USAID ha deciso, grazie alla grande affidabilità della nostra associazione di Rotary International nell'emergenza contro il Covid dandoci chiaramente delle linee guida Noi governatori e i 13 distretti italiani abbiamo deciso di pensare prima di tutto alla scuola e agli studenti ed io nel distretto 2090 che ha in sé quattro regioni Abruzzo, Molise, Marche ed Umbria ho, grazie alla collaborazione degli istituti scolastici regionali pensato di investire questa prima tranche di finanziamento sugli istituti professionali quindi nel distretto 2090 sono stati acquistati 500 tablet per oltre 54 istituti in tutto il distretto in particolare qui oggi nel Pesarese su tre istituti ne abbiamo distribuiti 45 ma questo perché? perché i ragazzi in questo momento stanno soffrendo particolarmente per questa situazione pandemica così come le famiglie e quindi abbiamo voluto pensare prima di tutto a loro considerando che sono il nostro futuro e quindi il Rotary c'è, c'è sempre dove c'è reale necessità Il Rotary ha sempre avuto grande attenzione e grande interesse per i nostri studenti quindi oggi c'è stata questa occasione di questa donazione dei 45 tablet sul territorio che fanno parte di un progetto molto più ampio il primo di una serie che continuerà anche nei prossimi mesi ma l'attenzione dei nostri club è sempre stata rivolta ai giovani sono il nostro futuro, la nostra risorsa quindi abbiamo sempre prestato loro grande attenzione cercando di fornirgli gli strumenti sia tecnici in una situazione particolare come questa di pandemia per poter continuare a fare didattica a distanza ma anche strumenti concreti quello che proprio può servire per la loro crescita per il loro sviluppo e per poter avere un ruolo un posto nel futuro Questa è un'iniziativa che nasce dalla collaborazione di un'agenzia statale americana, la USAID con Rotary International ed è da lì che nasce questo tipo di prospettiva con questo tipo di attenzione perché molto verosimilmente soprattutto nell'ambito degli istituti professionali possono essere più evidenti degli svantaggi sociali e quindi da questo punto di vista il programma di servizio sicuramente ha una maggiore efficacia L'Istituto Alberghiero ha messo a disposizione i suoi bellissimi spazi per questa conferenza stampa di presentazione di un progetto molto importante organizzato da Rotary e ha visto chiaramente ricevere numerosi tablet per i propri studenti Quanto sono importanti i lavori dei club come in questo caso Rotary sul territorio e sulla scuola? Sono molto importanti perché oltre a contribuire anche con oggetti, materiali, finanze e risorse è un'immagine, un messaggio che manda a tutta la società sono veramente orgoglioso che l'Alberghiero di Pesaro sia stato oggetto di queste attenzioni perché è una scuola del territorio come dico sempre per il territorio e con il territorio quindi avere questi agganci, queste collaborazioni sono per noi l'infa vitale soprattutto in questo periodo Quindi questi tablet aiuteranno un progetto che già è stato portato avanti anche dal vostro istituto? La scuola, devo dire, un po' di punta di orgoglio si era già mossa in questa direzione prima del Covid diciamo che il Covid gli ha dato una gran spinta durante il Covid infatti subito ai primi mesi siamo riusciti a donare, incomodato d'uso 100 PC agli studenti quindi ci siamo già mossi abbiamo attivato, già da prima abbiamo attivato la piattaforma per poter fare e quindi anche i nostri docenti si sono trovati pronti a utilizzare gli strumenti che avevamo messo a disposizione in più stiamo strutturando delle aule in questo senso diciamo che il Covid ha dato una gran spinta a questo rinnovamento tecnologico però dico sempre una cosa come dicevo anche quando ero professore che usavo già alcune di queste piattaforme tutto quanto la tecnologia è sempre un mezzo la qualità la fa la didattica il rapporto, la relazione, l'incontro che c'è tra l'insegnante e lo studente ecco qui la critica alla DAD nel senso che purtroppo non permette quell'incontro di cui ci nutriamo tutti per il nostro sapere e allora complimenti davvero a tutto il Club del Rotary per queste importanti donazioni agli istituti scolastici del nostro territorio adesso però andiamo a vedere qual è la programmazione di Rossini TV perché questa sera parte la prima puntata di un nuovo programma anzi un programma lo conoscete già bene si chiama Acome Angels ma ritorniamo a parlare del nuovo campionato del football americano e quindi della squadra pesarese questa sera alle 21.15 non perdetevi quindi la prima puntata e poi sempre questa sera ma in seconda serata alle 22.15 spazio dedicato alla musica la musica di qualità coordinata da Michele Panzieri e Topazio Perlini questa sera ci sarà un focus sulla musica di Michele Panzieri e anche della band i touristi e poi ancora domani torna Casa Rossini alle 10 in diretta vi aspettiamo diretta tv, diretta facebook diretta tramite l'applicazione che vi consigliamo sempre di scaricare gli ospiti di domani saranno Michela Vitri che è consigliera regionale e poi Cristian Ginepro un attore pesarese che si è fatto conoscere in tutta Italia non solo in televisione ma anche a teatro e poi domani è la giornata dell'Ital Service la giornata 23 una partita importante Acqua e Sapone contro Ital Service per seguirla seguiteci in diretta alle ore 20 chiaramente domani sera vedrete l'edizione del telegiornale delle 19.40 non quella delle 20.40 perché c'è la partita quindi in bocca al lupo Ital Service ho detto veramente tutto grazie mille per essere stati con noi anche questa sera l'appuntamento torna domani con la nostra rassegna stampa in diretta alle 7.20